ah i tifosi della Roma quanto sono belli io li amo io li amo e mi amo perché sono un tifoso della Roma ragazzi the day after Roma Brescia ho fatto il post partita ieri mi raccomando andatelo a vedere vi lascio il link nel primo commento e mi raccomando seguitemi su Instagram perché tra oggi e domani vi darò ulteriori dettagli ufficiali sulla collaborazione con la Roma allora ragazzi Roma Brescia 3 a 0 il giorno dopo come detto intitolato sto video se era buono che lo davano a noi perché questa è la frase che i romanisti fanno dopo ogni acquisto della Roma dopo ogni acquisto della Roma in particolare quest'anno è stato fatto soprattutto per Chris Smalling eh ma se era buono il Manchester United che ce lo regalava pure Mkhitaryan eh ma se era buono e stava bene che ce lo dava a noi e poi se non riesci a prenderlo cosa succede cosa dicono eh ma non riusciamo a prendere anche i scarti del Manchester United eh ma ehm che bello l'ambiente romano è stupendo io io mi caso c'è una mosca che tra un po' prendo un lancio a fiamme e niente allora parliamo parliamo di di Smalling ragazzi io veramente sono sono stupito io forse ero uno dei pochi che all'acquisto di Smalling avevo detto ma come fate a criticare uno con più di 250 presenze col mancio 250 presenze e non aveva manco oltre i 30 anni perché 30 anni li ha fatti due giorni fa 250 presenze ragazzi esperienze in Champions Europa League Premier League ho detto l'unica cosa che mi faccia storcere il naso era il fatto che statisticamente gli inglesi non vengono qui a farci la vacanza perché io avevo ancora l'incubo di Ashley Court che si è venuto qui a fare la vacanza andarsi a vedere il Colosseo i fori imperiali le robe così invece no lui sarà che c'è l'europeo perché io ricordo anche una grande operazione del grande Sabatini che prese Maicon c'erano i mondiali l'anno dopo quindi Maicon l'anno precedente fece una stagione con la Roma paurosa l'anno che delle 10 vittorie consecutive eccetera eccetera fece un anno da paura e fu convocato dal Brasile quindi possiamo dire quello che volete Smalling c'è l'europeo vuol giocare bene eccetera eccetera sta di fatto che sta giocando bene il resto è fuffa fuffa allora il primo tempo di ieri ragazzi parliamo un po' di tattica poi andiamo nello specifico però alcuni giocatori nel primo tempo ieri come già vi dici il Brescia ci ha chiuso molto bene centralmente si è chiuso sì un 11 dietro ma ci ha chiuso la linea centrale del campo lasciando libere le le corsie laterali e noi siccome stiamo facendo un po' fatica ad azzeccare qualche cross ieri tra Florenzi e Kolarov avremmo ingarrato un cross solo un paio di cross ma nemmeno e la cosa che ha fatto molto bene il Brescia nel primo tempo è andare su Torregrossa facendolo andare di sponda verso poi Donnarumma perché Torregrossa si spostava verso Kolarov e ha vinto tutti i duelli tutti i duelli li ha vinti Torregrossa su Kolarov Kolarov non ha preso una palla ieri su Torregrossa nel primo tempo nel secondo tempo invece la Roma ha accettato molto l'uno contro uno lì rischi tanto perché contro una grande squadra magari l'uno contro uno puoi soffrire di più però contro una grande squadra molto difficilmente te la ritroverai in undici dietro quindi là c'è già un attimino di ragionamento diverso però nel secondo tempo facendo salire molto di più i terzini e i centrocampisti ha accettato molto spesso l'uno contro uno lì sono stati bravissimi Smalling e Mancini l'uno contro una a non farsi mai superare sono stati fantastici Diavara e Veretù Veretù ieri era praticamente ovunque tappava tutti i buchi lasciati da terzini e esterni ieri veramente Vertura a destra sinistra avanti dietro mentre Diavara ha fatto il solito compito che richiede il mediano cioè quello di abbassarsi e abbassare il suo raggio di azione all'indietro verso i due centrali io voglio dire una cosa di Fonseca perché ve l'ho detto già nel video di ieri ed oggi lo stanno dicendo tutti io se avevo Fonseca come motivava la squadra tra il primo e il secondo tempo se avevo Fonseca che mi motivava così io a quest'ora avevo tre lauree in un anno in un anno mi sarei laureato tre volte io non so cosa gli dice io voglio entrare nello spogliatore della Roma tra primo e secondo tempo perché noi ultimamente o da inizio campionato andiamo a rilento nei primi tempi e nei secondi tempi sembriamo un'altra squadra allora o l'idroga può essere? può essere? possiamo essere in disaccordo su questa cosa però può farlo? ovvio che non può farlo però se lo fa chi siamo noi per dire che la droga no ragazzi non vi drogate assolutamente però notatelo nei secondi tempi la Roma esce in una maniera incredibile rabbiosa con la peste con la rabbia con la varice capito? con quella rabbia che quando li vedi dici ma che cazzo ma chi sono? sono mascherati non sono gli stessi del primo tempo e succede spessissimo ragazzi che ti può andare bene adesso però col passare delle partite conviene magari più chiudere la partita prima per poi gestire nel secondo tempo perché fin quando tu chiudi il primo tempo 0-0 io dico vabbè chiudiamo 0-0 il secondo tempo Fonseca tra primo e secondo tempo Fonseca li droga gli fa una strigliata quanto oggi e domani e poi vinciamo però se poi passi in svantaggio di troppi gol nel primo tempo poi è pur difficile recuperare questo è un po' una cosa che dovremmo migliorare i primi tempi anche perché è raro che ultimamente stiamo chiudendo i primi tempi 0-0 1-0 all'ultimo cioè comunque bisogna migliorare tutto questo aspetto però il fatto che Fonseca riesca a tirare la cattiveria tra primo e secondo tempo è fantastico e quando io voglio entrare nello spogliatoio non è possibile è qualcosa che io voglio imparare da Fonseca andate a seguirmi su Instagram link in descrizione primo commento eccetera eccetera perché nelle storie manca pochissimo e chiudo il sondaggio per votare il migliore in campo tra avere tu Mancini, Smalling e Gecko quindi andate nelle storie e votate volevo dirvi anche qualcosa su Paolo Lopez Paolo Lopez in primo tempo ha fatto una parata a mano con la mano di richiamo paurosa io sto portiere più va avanti più metto una sicurezza insieme a quei due centrali lì perché Smalling e Mancini ragazzi ma quando mai ci saremmo aspettati di avere una coppia così io me lo sarei aspettato non così in fretta ma me lo sarei aspettato però sono felicissimo come ho detto ieri è da Castambenatia che io non sono così tranquillo in difesa ieri tra l'altro è stata la nostra miglior partita per quanto riguarda la fase difensiva è la nostra miglior partita per quanto riguarda la fase offensiva perché abbiamo subito pochi tiri e abbiamo fatto tanti tiri soprattutto nel secondo tempo abbiamo tipo fatto 26 tiri nello specchio e abbiamo subito solo 6 occasioni o 6 tiri una roba del genere Diavara solo a me ricorda un pochettino senza fare grossi paragoni Keita il professore mamma mia mi ricorda tantissimo bello pulito elegante certo deve avere un po' più di responsabilità però va benissimo Clivert Clivert io continuo a leggere sto odio verso Clivert che io non capisco non capirò poi quando comincerò a giocare bene tornerete da me a dire avevi ragione su Clivert Zagnolo stai dicendo fai un video sul fatto che Zagnolo rischia di avere due giornate di squalifica per me non rischia assolutamente niente c'è da dire ragazzi che un po' se l'è cercato perché verso la fine prima di essere sostituito ho visto che stava cercando un po' di essere ammonito però noi non possiamo incolpare nessuno ragazzi cioè Zagnolo viene ammonito praticamente ogni partita non possiamo dare la colpa a Zagnolo dell'ammunizione di oggi cioè Zagnolo viene ammonito ogni santa partita quindi la cosa era strana se non venisse se non fosse stato ammonito quindi non ci meravigliamo dell'ammunizione di Zagnolo io non penso che venga squalificato due giornate per sta cagata niente ragazzi mi raccomando seguitemi su Instagram Forza Roma e ciao a gli o Ciao a tutti